buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo video sul nostro canale youtube AC Milan Insight da oggi partirà una nuova rubrica che vi racconterò però prima di passare alla rubrica vi ricordo di seguirci sul nostro canale youtube e di mettere il like a questo video ed inoltre seguirci anche sulle nostre pagine social AC Milan Insight su instagram tiktok facebook e twitter e inoltre seguirci anche sul nostro sito www.acmilaninsight.com benissimo ora passiamo a questa nuova rubrica in pratica si parlerà del Milan femminile il Milan femminile ieri ha disputato la sua diciottesima giornata del campionato di Serie A affrontando al centro sportivo Bismarra la Fiorentina partita conclusa sul 2 a 0 per le nostre ragazze che dopo quattro partite sono tornate alla vittoria infatti in campionato venivano da tre pareggi e in Coppa Italia dalla disastrosa sconfitta per 6 a 1 casalinga contro la Juventus in Coppa Italia ieri le ragazze hanno vinto contro la Fiorentina 2 a 0 e con le reti di Bergamaschi e di Tucceri Cimini in pratica che dire è stata una prestazione nel primo tempo sotto ritmo non ci sono state tante occasioni però alla fine la vittoria è più che meritata le nostre ragazze allenate da Mr. Guns sono ora terze in classifica perché con la sconfitta del Sassuolo Casalinka contro la Roma per 3 a 0 c'è stato il sorpasso però questo ovviamente non serve ancora per accedere all'Europa che conta infatti nella UEFA Champions League femminile ci andranno solamente le prime due quindi presumibilmente la Juventus e al momento c'è la Roma seconda le nostre ragazze sono a cinque punti di distacco dalle giallorosse quindi le giornate non sono tante alla fine del campionato cinque punti sono tanti da recuperare però ieri Mr. Guns nell'intervista rilasciata nel dopo partita ha detto che loro ci proveranno fino alla fine quindi siamo sicure che le nostre rossoniere daranno il tutto per tutto fino al fine campionato sperando di raggiungere questo obiettivo prestigioso che l'anno scorso hanno raggiunto con l'ultima partita a Sassuolo pareggiando 0 a 0 però poi sono state eliminate nel girone eliminatorio perdendo la finale contro le tedesche dell'Hoffenheim quindi tornarci sarebbe anche importante per le nostre ragazze visto che da breve quindi da settembre il calcio femminile diventerà anche come la squadra maschile professionismo che dire ieri la prestazione non è stata eccellente come le ultime dell'ultimo mese e mezzo però almeno è arrivata la vittoria rispetto alle gare contro Sassuolo, Roma, Napoli e soprattutto alla sconfitta di Coppa Italia dove si è perso 6 a 1 anche se sinceramente quella sconfitta è un risultato bugiardo perché il Milan ha calciato tante volte verso la porta bianconera non riuscendo a trovare solamente una rete nel finale al 94esimo la Juve ha tirato sette volte in porta segnando sei volte quindi la prestazione c'è stata purtroppo la sfortuna non è stata dalla nostra parte però tornando a ieri ieri la vittoria è arrivata la prestazione è ancora stata tra alti e bassi però questo serve ci serve anche per continuare a sognare quel posto in Champions League perché ovviamente porterebbe tanta come dire tanta personalità anche esperienza in più per le nostre ragazze giocare a livello europeo a livello europeo che anche nel femminile si è un po alzato di quindi difficile andare avanti per le nostre squadre però speriamo di arrivare al secondo posto anche se difficile perché la Roma è forte sabato scorso l'abbiamo affrontata in casa loro vincevamo 1 a 0 però diciamo la Roma non ha demeritato il pareggio anzi dopo aver colpito due palli salvataggi sulla linea qualche parata del nostro portiere Giuliani alla fine la partita è terminata 1 a 1 risultato giusto però la Roma ha dimostrato di essere una grande squadra per vincere questo weekend sul campo del Sassuolo per 3 a 0 e quindi merita la seconda posizione però non si sa mai potrebbe avere anche qualche calo noi dobbiamo approfittarne puntare a questo secondo posto per quanto riguarda le pagelle e le top sicuramente le due ragazze che hanno segnato quindi Tuccieri Cimini per me migliore in campo 7 e mezzo Bergamaschi che ha avuto il merito di aprire le marcature quindi portare in vantaggio alla squadra per me 7 poi la top 3 per me è conclusa si conclude con Christy Grimshaw che ieri anche ieri ha fatto una prestazione super quindi le do 7 la scozzese ha giocato bene sia in difesa che in attacco recuperando palloni assist tutto quindi anche ieri si è dimostrata di alti livelli quindi la top 3 è formata da Tuccieri Cimini 7 e mezzo Bergamaschi e Grimshaw 7 flop flop per me sono tutti ieri hanno raggiunto tutti la sufficienza proprio se devo dare un flop lo do a codina Paneras quindi 5 e mezzo perché la doppia munizione rimediata a tempo praticamente scaduto quindi con risultato acquisito quindi la conseguente espulsione espulsione portere porta la spagnola a saltare la prossima gara di campionato e sappiamo tutti quanto codina è importante per la difesa di questa di questa squadra diciamo un punto fondamentale quindi che verrà a mancare nella prossima giornata quindi l'unico flop per me sono tutte sufficienti però se devo trovare un flop lo do proprio a codina Paneras quindi 5 e mezzo continuiamo a sognare non si molla fino alla fine queste ragazze non lo faranno sicuramente come lo hanno sempre dimostrato e come lo ha dichiarato anche ieri mister guns dopo la partita che dirvi vi rimando al prossimo video sul milan femminile e vi ricordo di seguire il nostro canale e di mettere like a questo video grazie a tutti e alla prossima buona giornata e sempre forza milan